Ciao amici della push up che ci servite da casa, in questa video lezione ci facciamo un 20 minuti circa di riscaldamento un po' cardio, tutto molto semplice, quindi don't worry be happy, accendiamo la musica e iniziamo, non abbiamo bisogno di attrezzi quindi andiamo tranquilli, ok, spettaccio, apro e chiudo, muovime nelle braccia, voglio tutto il corpo in movimento, buttei, vai vai, brazzo in alto, dai andiamo ancora, bellissimo questo verso il centro, apro e chiudo qua, e ancora, marcio, quale vuole, respiro sulle braccia ancora, dentro l'aria, fuori, respiro in più, ancora, ultimo, let's up, pronti appunto dietro, bacino bello basso, addome attivo e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, avanti dietro, ultimi ultimi 3, due, lato avanti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ripeto avanti qua blocchiamo bene blocchiamo bene, quadricipite e ginocchio uff, uff, uff yazza mi, mi tieni, tieni anche ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio gamba doppami il ginocchio in linea con la punta del piede giù il bacino e ancora oppa bene, buona ancora ultimi otto sette sei cinque quattro tre due apri chiudo yeah, yeah, yeah sciogli, sciogli voli qua it will be e pieghi ancora otto sette sei cinque quattro tre due pallo doppio hop come on come on come on come on tre tre due apro hop sempre doppio eh vai vai e ancora ok otto sette sei cinque due quattro quattro due coro normale tre tre due doppio apro 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 ancora solo otto sette sei cinque quattro tre due ultima corsa hop sciogli, sciogli le spalle hop sono le gambe che spingono otto sette sei cinque quattro tre due vai doppio hop 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 yes tira 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 solo quattro tre due apri chiudo usami bene le braccia muovi tutto il corpo pronti hop 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 attenziamo attenziamo sette sei cinque quattro tre due resta fuori pinta attenziamo sette sei cinque cinque quattro due rifiut otto cinque quattro tre due interno eh eh cinque quattro tre due rifiut otto 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 super ginocchio cinque quattro tre due ripita otto otto sette quattro otto cinque cinque quattro tre due alterna quattro tre due ripita otto sette sei cinque quattro tre due alterno ultimo ultimo e keep low dipita otto sette sei cinque quattro tre apri chiudo oppa vai 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 ancora trastra in alto ok per segnere proviamo a giungere un pochino il tutto piccola ok otto sette sei cinque quattro tre due fondo dietro otto sette sei cinque quattro tre due laterale otto tre quattro cinque sei sette con il suo posto otto sette sei cinque quattro tre due vai col doppio oh apri più no? da qua attacchiamo ogni up ok otto ripita sette sei cinque quattro tre due al perno quattro tre due mi spisa altra gamba sette sei cinque quattro tre due apri e chiudo ok a capo ah no legge 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 ripita otto sette sei cinque quattro tre due apri apri lato otto otto sette ripita otto sette sei cinque quattro tre due legge ripita qua tre 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 cinque quattro tre due allena sette sei cinque quattro tre due apri e chiudo sette ultimo sei cinque quattro tre due ando dietro voglio tutta l'energia nell'ultimo giro lato corri vai vai col topio uuuuh uuuuh leggo libere vai ancora knee up cinque quattro tre due esterna sostieni 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 con l'addome ripita legge resta resta alterno legge fatta ripita qua cinque quattro tre due sette apri e chiudo vale finiamo vai col topio due parti di lato piccoli ma giù con l'assetto giù il palcino uno occhio che aggresso 2 touch, apro e squat, 1, 2, 3, 4, finito il pavimento con i piedi, uguale, scendi col bacino solo fino alla ginocchia, poi torna su. 3, 3, 4, finito il pavimento con i piedi, inizialmente lo spado, la ginocchia, poi torna su. E' da squat qua, 8, 7, 6, ancora, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, Penso al centro dei piedi, fammi gli ultimi 8, pensa di spingere in alto, 2 parti, vai, 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 Dai che riduco, 2 passi, 4 squat qua, 4, 3, 2, 1, 2 parti, 4 squat, 4, 3, 2, 1, 4 parti, 2, 2, 2 passi, 4 squat, ci siamo, ci siamo, mi sto affondando il proverito, 2 passi, 4 squat, 3, 2, vai che andiamo con gli ultimi, 2, 4 squat, oh, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, resta qua, giù, 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 resta, 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 forte l'addome, spingi la colonna verso l'alto, spalle basse, resta, 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 e salgo piano, punta dei piedi, stacca i palloni, scendo, e allunga, e di nuovo, sali con il bacino, elevazione, stacca i palloni, e torno giù, voglio una discesa controllata del corpo, dai che andiamo ancora, e allunga, scendo, vai, 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 scendo, e squat, vai, 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 scontrai il gluteo, tira bene i polpacci, vale, ancora 4, allunga, vai, 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 spalle basse, muovi bene le braccia, tieni, tieni il gluteo, ancora 2, dai che voglio l'intimo, e sali, gamba destra, piccolo, equilibrio, equilibrio, tieni fermo, tutto il peso del corpo è al centro del piede, che poggia bene attualmente, e alzo, posso anche toccare terra, 4, 3, 2, cambia gamba, attualmente, 5, 4, 3, 2, cambia gamba, 4, 3, 2, cambia gamba 4, 3, 2, cambio ancora Oh, controlla l'atome Cambio 4, 3, 2, cambio Cambio Apri e chiudo Sciogli, sciogli e respira Ok, da qua, piccolo kick alternato Calcio Calcio, scogli la caviglia Respira One away Ole Dai che, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Maggio qua Trenchiera Fuori l'aria Ancora 2 Ultimo Eeeh, sciogli Bene ragazzi, è stato un piacere Abbiamo fatto un piccolo riscaldamento Adesso potete attaccare un altro qualsiasi video Di sonificazione Circuito Pilates Bizzarri Alla prossima A A A Bizzarri San Bizzarri Grazie a tutti.